L'autista fa, dice, io devo sentire se hanno la possibilità di ospitarci. Schiavallibussa, c'è fuori un tedesco, capelli rasati a zero, biondo, anzi. Scusi, dice, ma c'ho una quarantina di ebrei da sistemare, avrebbe mica lei la possibilità. Non possibile io avere solo piccola stufa che roseni? Io ne ho bruciato. E' come quella di Pessotto, lo conoscete tutti, no? Poverino, no. Questa era la battuta venuta fuori dal sito interista. Albitro, non ha ricorre, si è buttato. Però le bambini, grazie a lui, per arrivare a fare un gesto di genere, bisogna essere proprio disperati. Ma c'è qualcosa di questo. Ma la testa che c'è, ma... La tensione, io lo sai che c'è, ma... Chi lo sai, carattere di Rosetta? Quello che aveva un tigre nervoso, va dall'occhiare. O con il lavoro o con la famiglia.